un pezzettino, questo incontro, che non lo chiamo nemmeno spettacolo, poi ci saranno anche delle... non potevo portare le scene, non potevo portare niente, ho pensato in una maniera tale, insieme a Fabio Grossi, che è il regista che mi ha sempre seguito, a delle proiezioni, e quindi la parola, e quindi le letture di queste pagine, ma tutto questo perché? Per ricordare che la nostra lettura, letteratura della lettura, è antica, abbiamo talmente tanti valori che provate a leggere, provate a trovare qualche libro, provate a richiederlo, poi oggi con internet davvero è un attimo, tutto quello che volete, perché siamo ricchi di storia, e la storia significa la tua storia, la tua radice, leggere grandi autori che hanno avuto la percezione di raccontare anche chi siamo noi, significa anche rinfrescare un po' la memoria su tante cose, io voglio dire, non lo so, mi chiedi un'anticipazione, non so anticipazione di che cosa, perché sono pezzi variegati, diciamo, dello spettacolo, ogni volta, la racconto come se fossimo tra amici in una terrazza, proprio per ricordare le nostre terrazze, le nostre estati fresche, a pigliare a granita, a ucafè, a gazzusa, a stare insieme, e quando si sta in queste condizioni nelle terrazze si parla di tutto, da temi importanti a temi non importanti, e racconterò anche pezzettini della mia vita, ma perché li racconto? Perché sono convinto di essere su un piedistallo, è meglio togliergli i piedistalli, perché quando si casca dai piedistalli ci si fa male, quindi meglio avere i piedi per terra, perché io sono nato in un quartiere popolare di Catania, si chiama Ufuttino, il Fortino, il quartiere popolare significa che hai degli imprinting da dove nasci, che ti porti per tutta la vita, che sono cose molto importanti, e il papà mio, io avevo 5-6 anni, mi parlava, mio papà era un operaio pasticcere, e lentamente, con un linguaggio adatto ad un bambino, mi parlava di che cosa è il rispetto verso gli altri, di che cosa non bisogna mai giudicare se non sai, ma soprattutto mi ha spiegato con parole semplici, che man mano poi ho analzato, che cos'è la dignità di un uomo, conservare la dignità, la propria dignità, è una cosa molto molto importante, quindi che Cadovi posso dire? Racconto anche i miti nostri, con la pesce, che cosa nasce e ci fa, che cosa posso dirvi? Intanto vi dico delle cose così passeggerne, Andrea Camilleri, io non so quanti siciliani sono in ascolto, tantissimi, Andrea Camilleri, che è un autore straordinario, Montalbano e quant'altro, ha scritto tantissimi libri, io l'ho conosciuto ragazzino, lui faceva il regista, ancora non era noto, immaginate una donna analfabeta, c'è una che mango sapere scrivere, però parla così, con un dialetto italianizzato, a modo suo ovviamente, ed è una lettera d'amore, come può scrivere una lettera d'amore, un'analfabeta? traggo da un libro, che si chiama La concessione del telefono, di Andrea Camilleri, ora immaginate una signora, di quartiere popolare, Pippo, amore mio adorato, gioia di chi stugoni, pippuzzo adorato, che ti penso che il notte e che il giorno, e ti penso magari che il giorno che viene appresso, e dopo quello che viene appresso ancora, tu manco lo puoi capiscere, quanto mi manchi, pippuzzo adorato, in ongi ora, ma ti dico ongi ora, in ongi minuto, che basta dell'aiunnata, che non ti posso abbrazzare, le fotte fotte, e scendere le tue labbra, di sopra le mie, ora, in questo momento, le cose di pizzo mio, che ti sono accapitati, che si è andata a finire, nello carzaro, con lo sdilingüetti, mi ha fatto venire la febbre, che mi spuntarono le macchie sulla faccia, e stavo dispirata, perché non ci capivo niente di quello che succedeva, cimavo tutta, mi pareva di iniziare pazzo la notte, il letto, pippuzzo, mi pareva diventato di fuoco, non picchiavo sonno, dopo, seppi che ti era smorcata la febbre, per tutte le cose che patisti, non scende, come a Cristo, e così, non ci siamo potuti a vedere, e allora, pippuzzo, anima mia, quando è che ci possiamo nuovamente a vedere, per passare qualche orata, abbrazzati, scitti, scitti, insomma, qualche ora di felicità, perché, che tu devi assapere, pippuzzo adorato, che la vita mia senza di Dio, è come un otti senza luna, giorno senza soli, picchi, pippuzzo, ci sono notati che mi vengono spaventoso, quando che a lui, a lui, ci piglia il firticchio, che mi vuole cercare, e vuole fare le cose con mia, che sono mogliere sua, ci viene il desiderio, ma datosi che ci ho poveccio, non ce la fa, e allora mi piglia, e mi fa fare cose che mi vergogno, sai, cose vastasi, che manco una buttana, insomma, cose a cussì, che manco mi sento di dire, e che però, che però ci arinescio a fare, pensando che all'opposto suo, ci sei tu, il pippuzzo adorato, e allora tutto mi diventa quasi facile, e arinescio a darci tutta la soddisfazione, che mi cecca, pippuzzo, chi sta è la vita mia, spero che arinesci ad avere questo biglietto di mia, che ti dici che ti penso io, in ogni minuto, vasate, 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 questa è una pagina di Andrea Camillera, grande, però tenete anche presente, che è un grande poeta nel mondo, che si chiama Paolo Coelho, o forse avete letto, anzi sicuramente avete letto qualche libro, ricordatevi una, un pensiero bello profondo, lui scrive, mischino è colui che ha avuto paura di correre rischi, perché forse non sarà mai deluso, non avrà disillusioni, né soffrirà come coloro che hanno un sogno da perseguire, bella, una frase importante insomma, e poi c'è Tommasi di Lampedusa, un po' di roba che si parlerà, che si giocherà, che cercherò di dare anche qualche sorriso, qualche cosa, insomma, posso ricordare per esempio un barrino, che avevo, o futtino da ragazzino, un barrino furbo come tutti i parrini, il parrino è uprede, in modo che chi sta ascoltando ogni tanto, magari le parole le ripesca, dimenticate, c'è uno futtino appunto in questo quartiere, si andava lì perché la domenica dopo la messa, ci davano il pane con la marmellata, a godugnata, chi dà cattavilina, chi dà cattavilina, i bambini, a forma di mattoncino, esatto, si metteva il dito, lo piegava, insomma, c'era il quartiere con tutti i bambini, ma c'erano anche bambini che proprio, avevano qualche difettuccio fisico, qualche problema fisico, però la cosa bella di allora è che tutti si stavano insieme, non c'erano queste divisioni, queste paure, e Oparrino però nelle sue omelie diceva sempre la natura è perfetta, Dio ha fatto tutte le cose perfette, e uno di questi ragazzini, insomma, che aveva qualche problema, subito gli si è avventato conto, dice, ma come, ma cipiccione, io ho un occhio di vecchio, a gamba di ligno, a scoliosi, come Dio ha fatto tutte le cose perfette? E subito il prete, furbo, come sempre, dice, beh, tu come disgraziato sei perfetto, ma queste sono le fantasie del catanese, la brillantezza del catanese sta proprio in una intelligenza viva, a parte il fatto che Catania, adesso non perché sono di Catania, è una città straordinaria, perché, proprio geograficamente, a venti minuti dalla collina, a venti minuti dalla montagna, a venti minuti dal mare, un'eserciosa cosa era così. Esatto. Vuoi dire qualche altra cosa, Armando? No, io volevo, ecco, parliamo dei due doppiaggi, l'ultimo poi, che lo ha visto anche mio figlio nella versione italiana di Zootropolis. Come no? Un cartone animato. Un cartone animato, eccetera. Se ti chiedessero di doppiare, sì, il presidente Trump, e Kim, il coreano, che voce gli daresti? No, intanto il doppiatore, è colui che si deve, non si inventa, non fa cose diverse, il doppiatore, è un traduttore simultaneo, non deve fare altro, poi ovviamente il talento, fa la differenza, non deve fare altro, che cercare, di dire in italiano, quello che si vede sullo schermo, sia uomo, sia donna, non è che si fanno cose diverse, quindi questa è la regola. E volendo fare una parodia dei due? La parodia è diversa, perché uno, praticamente, anzi tutto lui, si può onorare a mano, perché sono due pazzi, quindi che cosa si può dire soltanto con la voce? Risponde ovviamente l'altro dalla Corea del Nord, un gioco, qua stiamo giocando, stiamo parlando di cose importanti, meno importanti, si gioca, giocate nella vita, la vita è meravigliosa, nel bene e nel male, ma cercate sempre di capire, e di sorridere, provate a regalare un sorriso, a chi vi sta accanto, anche se non lo conoscete, ecco questa è una cosa buttante, per esempio. Meraviglioso, non ti farei andare più via di qua, chiuderei quella porta. Ma io con grande piacere, come puoi notare. Ti ringrazio moltissimo per la tua presenza, per la tua disponibilità, ringrazio all'amico e al dottor Cullotta per averci dato questa opportunità, sempre gentile come hai detto tu, sempre disponibile con gli amici. Suquisito, umanamente è una cosa ormai introvabile, è come i panda, bisogna preservarli, riservarli. No? Leo Cullotta, ospite a Red Italia, Fiamma e Globo, sono i nostri network, sono i nostri social, i nostri media, i giornali, due giornali e una radio. Allora, io sono stato molto contento, anche perché attraverso la radio si raggiungono tante persone, tanti amici. volevo dare con questa chiacchierata, sia rispondere alle vostre domande, ma anche così, donare un pezzettino, un sapore di chi la propria terra, la propria timbratura, se la tiene nel cuore, pur stando lontano, in un altro mondo, proprio dall'altra parte, d'omunno. Quindi, sono tutte note che voglio dare soprattutto ai giovani. Cercate di studiare, frequentate la scuola, credetemi, credetemi, perché chissà ha più frecce nel proprio arco e quando accadono nella vita, perché accade che arrivano momenti magari pesantucci, se sapete usare la lingua e il cervello, sicuramente saprete trovare molto di più degli altri la via per essere positivi. E soprattutto non dimenticare il dialetto. No, io ho usato. L'hai usato perché qua ci sono tantissimi che lo parlano ancora molto bene e questo ci fa piacere. Dialetto siciliano, calabrese, siciliano. Sì, 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 stare tutti insieme. Vi ringrazio, vi ringrazio di cuore come se fossi stato dentro le vostre case a pigliare un caffè in una terrazza a granita. Insomma, fate conto che sono arrivato, passai e me ne stai enno. Ad ognuno di voi auguro le cose più belle che desiderate nella vita a voi e alle vostre famiglie. Cu tuttu cori. Leo Gullotta, Aredità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.